Ciao ragazzi siamo qui in un nuovissimo video per il YouTube Roy Toys abbiamo gli slime colorati, siamo nella splendida fornice del parco divertimenti Spazely, sempre attaccato al nostro negozio Roy Toys oggi vogliamo provare a fare degli slime super colorati della Clementoni sono degli slime bellissimi, brilluccicosi, ci sono dentro brillantini, profumi e li vogliamo fare insieme a voi per darveli come promozione, come video per farvi poi fare sia a casa sia a farli da noi durante i compleanni adesso ci lanciamo in questa bella scatola e iniziamo a farli Ciao 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 Vediamo se questo bellissimo slime, dei miei confidenza, sarà veramente bello. Ma è perfetto! Sì, questo è il vero slime, in pochissimi minuti, senza sporcare. Guarda, bello appiccicaticcio. Lo mettiamo ora nella confezione. Quale mettiamo? Quella viola? Quella rosa. Lo mettiamo nel barattolino per potercelo portare a casa. Grazie. Grazie a tutti.